Giusto informare e ringraziamo i media di tutto il lavoro che stiamo facendo in modo particolare da gennaio in poi quando abbiamo avuto anche la possibilità di avere nuovi agenti da impiegare sul controllo territoriale e soprattutto sulla sicurezza stradale, proprio perché a dicembre con i dati forniti dal Ministero degli Interni tramite la Prefettura si vedeva chiaramente che i dati su Genova non sono buoni, c'è un troppo numero alto di incidenti, un numero molto elevato anche di morti in città che è una cosa intollerabile anche perché al primo posto ci deve essere sempre la salvaguardia della vita umana. Purtroppo ci sono troppe persone incivili, troppi pirati della strada perché chi va a cento all'ora in strade cittadine non può altro che essere definito pirata della strada che continua a non capire che certi comportamenti non solo scorretti ma pericolosi, ledono la libertà altrui e anche la sicurezza di tutti i cittadini. Per cui chi non vorrà capirlo con le buone lo capirà essendo sanzionato, perdendo punti sulla patente o essendogli ritirata la patente nei casi più gravi. Le tre infrazioni che causano più incidenti sono l'uso del cellulare alla guida senza auricolari, sono l'eccesso di velocità e la guida in stato di ebrezza. Tre cose che sono comportamenti altamente criminali. Noi continueremo in questo anno a intensificare ulteriormente rispetto ai primi due mesi ancora di più i controlli sul territorio sperando che molti capiscano che è un'azione per la salvaguardia e della sicurezza di tutti i nostri cittadini. Parlando di ordine...